Ciao a tutti, oggi vogliamo fare un video un po' più carino del solito, cioè oggi torturerò Matteo. Allora, chi mi segue su Instagram sa che io uso prodotti della Prozis, della Prozis, della MyProtein e della NoWorth Nutrition. Vabbè, vi lascio il link nell'info box. Allora, siccome è uscita questa gamma di Prozis zero, che ancora non ho capito zero di che, zero cosa, allora ho comprato un po' di cose e torturerò Matteo perché lui non ha mai assaggiato le barette proteite, la roba proteica, e vediamo cosa e come reagisce. Qua ho un po' di roba e iniziamo. Allora, ho preso Protein Malz, 68% di zucchero, meno zucchero. Questo è latte. Ah, sono tutti al latte, mi sa. Ti l'hai salvato. Io l'ho già aperto, l'ho assaggiato. Vediamo la reazione di Matteo. Matteo è un po' schizzinoso sulle cose. La caramellina, vuole la caramellina! La caramellina, vuoi le portano, è un po' di modi. Falare, va a الغisare. La caramellina, vuole la caramellina, ci sono molti soddentate, all'oclipo del cinema. Vediamo la caramellina! Da, per la caramellina, vuole la caramellina, vi dico i valori nutrizionali buona ma te allora per 100 grammi 451 calorie 18 di grassi 29 di carbon e proteina 43 un boato va bene passabile protein mal ci piace ci piace ok passiamo avanti e taglio le forse man mano questi qua noi dirò niente a matteo aspetta ce n'avevo un altro pacco mi dico ho comprato solo uno vabbè protein buffer vaniglia cloud flow 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 ma adesso l'altro la leggeri sicuramente formato ma come formaggio aspetta faccio così a riapri la bocca perché sei rotto tutto è qualcosa di divino facciamo cazzo buono eh eh e meno male che le cose con le proteine fanno schifo buono come l'è ha fatto così non so non so perché tiè leccati la busta e io pensavo di averne comprate più di una invece buone mi piace la mia barrettina provirebbe questa ok andiamo avanti adesso proveremo le baretti se non tantissime vabbè prendiamo una alla volta assaggeremo c'è passagerà matteo zero snack questa al oreo a me e da solo un pezzettino è non mi fa un pazzo a me nulla al vino è buono è dolce ma sa troppo di proteine dico questo che sa troppo di proteine guardate che tatuaggio smailoso ciao come Matteo no questa oreo nemmeno a me piace tanto a me piace tanto poi c'è questa al doppio cioccolato facciamo assaggiare anche questa mattina non mi riguarda il mio pezzetto questo è meglio non sa di niente non sa di niente come c'è un sapore di qualcosa questo è meglio quindi oreo no doppio cioccolato si poi c'è questo alla cannella andiamo se ti piace Matteo ma tutto Matteo è un giurito perché Roberti questo è buono è buono perché sa proprio di cannella come c'è meglio di quell'altro no poi abbiamo qua questa la banana e hai allora quale vuoi assaggiare banana o l'abboni adesso assaggiamo al gusto lampone come faccio a calcolare le calorie di tutti questi assaggini che ho fatto io oggi questa è così sei pronta appoggia il bicchiere ma sei pronto vai è qualcosa di divino è un buono vuoi assaggiare lo stella vuoi assaggiare lampone con le come? ti piace? Ti piace? Sì. No? A te non ti piace, Ro? Bagnoscumo. Chi serve? Bagnoscumo. 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 A me piace. Bagnoscumo. Bagnoscumo. La te la è più che ci sono di me. Assaggiamo la banana. Mamma mia, questa sembra... una sola di scarpe. Non è vero. E' buonissima. La banana è fantastica. Buona, buona, buona. Buona, buona, buona. Allora, banana la buona, doppio cioccolato e cannella sono buonissime. Poi, qua abbiamo la cioccolata. cioccolata, zero milk, cioccolate, cioccolate. Questo ha le nocciole e questo normale. Ma non vi ho detto le calorie di quest'altre. hanno, mi sembra, cento... Guarda lei. Che bambotezza che ho. Hanno. Per porzione. Allora, assaggiamo queste al cioccolato. Allora, assaggiamo queste al cioccolato. Mmm, cioccolata normale. Buono. Buono, buono. Abbiamo questo al latte. Noi lo faccio assaggiare, sennò si sente male. Poi. Non mi ricordo che cos'è questo. Pow pow. 10 grammi di proteine. The protein power cookie. Abbiamo il biscotto. Già a me sta senti male, ma c'è la nausea. Ah, che carino cocco a Rizzini. Buono горere. Poi, la galletta è boll quale. E' amarto. E' strano. E' sost futureso. Ma è un sorpreso giù che diventa, buono b Candace. E' sennò i miei. Poi, le faccio assaggare forte e weekre. non ha mai assaggiato il burro d'arachidi ma noi lo farò assaggiare. Vuoi che? Vuoi assaggiarlo? Assaggia. Questo senza il zucchero è un po' particolare, non è buono come quello di zucchero. Questo non fa bene assandare. Ti volevo risparmiare questo? Forse vomito. Vomiti? Sì, fai milioni di giù. Allora, questo video lo metto sul trucco. No, aspetta, è sembrano così. Eh? Sembrano così. Sì, sembra merda. È buono. Quindi potresti anche fare merenda. Ah, chi vuole seguire anche me sul mio canale YouTube che ho anche io un canale YouTube? Si chiama Giannina Italia. Giannina Italia. Lo metteremo nella descrizione. Allora, io sul mio canale tratto argomenti sull'alimentazione. Io mi occupo di educazione alimentare. Ok, è l'ultima cosa, the king of the king, la cosa più buona che potevano inventare è la crema proteica bianca, il cioccolato bianco. Già credo che per me è il terzo o il quarto barattolo. Ha un sacco di calorie come il burro d'arachidi, bla bla bla, però su tutto ci serve equilibrio. Non bisogna mangiare come i porci. Allora, questa ha 539 calorie per 100 grammi, 41 di grasso, carboidrati 35 di cui 2 saturi. Buono. Proteine 22, buono. questo. Questa è la... Matteo approverà la mia scelta. Questo è lo sgaro. buono. Raga, ma Matteo si fa il panino con la nutella tutti i giorni, ma puoi apprezzare una cosa del genere. No, no. Sai che tu ti bevi? Lo so che non è male. Buonissimo. Mamma mia, io mi attacchierei così col cucchiaio. Wow, 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 buono. A me piace un sacco. Vuoi assaggiare? una crema spalmabile al cioccolato bianco. No, questa è la sgara. Sgara. Voi dovete sapere che questi bambini qui mi hanno fatto interessare a me, perché da piccoli non amavano le merendine. E secondo me io ero una mamma cicciottella e ingozzavo loro le merendine schifose, quando loro non li mangiavano. Loro già erano fit da piccoli. Quando non li mangiavano, per non buttarle le mangiavo io. Mame, non fate questi errori, non ve mangiate le merendine dei vostri bambini che diventerete cici. Ciao! È stato un piacere fare il video con te. Per me no. Come per te no? Il canale è tuo. Guarda la roba qua. Comunque questi fanno schifo. Il bistocco. Il biscotto. Non ci piace. Ah! Insieme a crema spalmabile c'era anche pale proteico, ma... non l'ho preparato. Matteo già mi porta male. Non torturiamo i bambini. C'era tipo pane nero con dei semi dentro. Non saranno male. Vediamo un po' gli apporti calorici. Per 100 grammi 264. Buono! Perché di solito le farine sono 364. 13 di grassi. Carboidrati 7. Buono! Proteine 22. Deve essere fantastico. Carboidrati 7. Buono! Speriamo che il video vi sia piaciuto. Andate pure sul mio canale. Allora, no. Chiudelo il video. Chiudelo il video dai. Il canale è suo. No, io speriamo che il video vi sia piaciuto. Mettetevi un mi piace. E andate pure sul suo canale. E condividete il video. E seguitemi anche sulla mia pagina Matteo Lomolla. E alla prossima. E Instagram ti sei dimenticato. Vabbè. Su Instagram non l'ho seguito. La pagina è su Facebook. E su Instagram è un'altra cosa. Instagram e Facebook sono due cose. Non importa. Basta che date il like e condividete. Mua! Mua! Ciao! Mi fai compone. Ciao!